Quindi adesso arriva Monia, che ci spiega qualche trucco. Non ne potete più. Scusate, è arrivata una persona che aspettavo. Bentornate a casa mia. Bentornate a casa mia è la frase con cui ha esordito la condivisione è una persona che viene alle meditazioni del giovedì sera al primo incontro dopo il rientro dalla pausa estiva appunto alle meditazioni del giovedì sera. Bentornate alle meditazioni online. Bentornate a casa mia. È una cosa che mi ha proprio commossa. Io sono Monia Dariva, sono una counselor, una operatrice shiatsu e una facile trattrice di meditazione. Oggi parleremo di come fare incontri di gruppo online in cui ci si sente tutte nella stessa stanza. Se fate formazione di quella formazione... Sono un pochino emozionata. Se fate formazione di quella formazione frontale in cui voi siete qui, le persone sono lì e l'avete portata online spero che ormai dopo questi tre anni abbiate capito come si fa a coinvolgere le persone e quindi fate tante pause molte di più di quelle che fate quando siete in presenza siate un pochino più vivaci del solito perché sennò dopo 35 minuti le persone sono su Facebook sono su Whatsapp si stanno facendo bellamente cavoli loro stanno perdendo il loro tempo, i loro soldi voi uscite completamente frustrate e frustrati dalla lezione, dall'incontro e si stanno tutti quanti annoiando. Però questo talk non parla di questo tipo di formazione parleremo di gruppi di adulti che fanno qualcosa di crescita personale quindi vogliono fare un cambiamento e quindi questi gruppi sono gruppi di persone che hanno voglia di stare insieme di comunicare insieme e quindi hanno bisogno di confrontarsi di fare qualcosa insieme fare un percorso insieme cominciamo con una cosa che però comprende tutti i gruppi online e le chiameremo il capitolo Smutati che non ti sento questa è la parte tecnica diciamo è anche la parte più semplice diciamo teoricamente da risolvere secondo me si risolve con un quarto d'ora di anticipo rispetto all'inizio della lezione o dell'incontro vi presentate voi un quarto d'ora in anticipo chiedete alle persone nuove di presentarsi un quarto d'ora in anticipo possibilmente date il vostro numero di telefono chiedete il loro numero di telefono e voi fate in modo di conoscere il più possibile i problemi tecnici che ci sono della piattaforma che voi avete scelto per fare il vostro corso o il vostro incontro online continuo a dire che voi avete scelto perché secondo me i problemi tecnici sono di vostra competenza certo la piattaforma il sistema operativo lo scelgono le persone che si iscrivono al corso il device, il telefonino l'iPad o il computer ce l'hanno le persone che si iscrivono però siete voi che scegliete cosa usare se Zoom, se Meet, se Gimdo se qualsiasi altra piattaforma quindi siete voi che dovete sapere quali sono i problemi che ha quella piattaforma quindi vi informate, provate col cellulare, con l'iPad provate con vostra zia con vostro nonno con vostro cugina con vostro cugino e fate voi tutte le prove prima così vedete un po' quali sono i problemi che ci sono e poi quando le persone si collegano sapete come fare a risolverli imparate anche quali sono proprio i termini che dovete usare per aiutarli a risolverli così in pochi minuti si sistema il problema e vi assicuro che questa cosa qua è brutta per chi la vive perché è frustrante ed è brutta anche per voi perché se non si risolve il problema magari la persona vi dice sì sì ma non importa io anche se non vi vedo va bene lo stesso anche se scrivo sulla chat anche se non riesco a parlare me lo faccio risolvere da mio marito quando arriva oppure da mia figlia quando adesso che la chiamo mi risolve però voi ce l'avete il tarlo di quella persona che è lì che non sta funzionando bene e le altre persone nel gruppo lo sanno che c'è una persona che non è pari a loro e non sta avendo la stessa esperienza e quindi vi portate questa sensazione brutta tutti si portano questa sensazione brutta dentro nell'incontro e resta questa sensazione quindi con un quarto d'ora di anticipo voi cosa costa un quarto d'ora di anticipo risolvete il 95% dei problemi perché alla fine sono sempre quelli i problemi togliete questo problema tecnico un bel respiro e il vostro incontro di coaching di counseling di meditazione di quello che è di yoga di quello che è comincia tranquillo poi tenete conto che tra gli incontri online e la consapevolezza delle differenze è una cosa che è importante più o meno sempre non solo negli incontri online offline tra gli incontri online e gli incontri in presenza ci sono delle differenze importanti e secondo me è importante conoscere le differenze per sapere cosa farne poi se portarle dentro o se tenerle fuori e quando si sa quali sono queste differenze appunto le possiamo gestire ne possiamo avere in un certo senso il controllo le differenze sono per esempio che quindi ve ne dico qualcuna negli incontri in presenza c'è un prima e c'è un dopo c'è un momento in cui le persone si tolgono le scarpe fuori dalla stanza si incontrano dopo si fermano un attimo fuori dalla porta a sganciare la bicicletta dalla palizzata fanno la strada dalla porta d'ingresso fino al parcheggio e fanno le due chiacchiere ecco quel tempo lì voi non ce l'avete nell'incontro online e potete decidere se cosa farne e per esempio io negli incontri vi farò un po' di esempi dei miei incontri di meditazione perché quelli ho io nei miei incontri di meditazione del giovedì ho deciso di prenderne un pezzettino e portarlo dentro i primi dieci minuti i miei incontri durano un'ora i primi dieci minuti di quell'ora sono dedicati a chiacchiere un passatempo come state come è andata la settimana come vi trovate ora come arrivate ora proprio chiacchiere normali così per me è importante che ci sia questo momento per i miei gruppi nei miei gruppi c'è questo momento che dura un tempo variabile non dura mezz'ora chiaramente però dura quei minuti lì le persone lo sanno che ci sono questi minuti e questo può essere un discriminante perché chi non vuole quel tempo lì non viene ai miei incontri chiaramente viene al primo poi non viene più perché dice perdo tempo però per me è importante perché per me quella fase lì è una fase di formazione del gruppo quindi io ce li ho messi dentro voi potete decidere o meno di inserirle quei tempi lì una volta che sapete che ce li avete potete decidere cosa farne un'altra cosa che potete fare che fate quando avete gli incontri in presenza è preparare la stanza preparate decidete che musica mettere mettete in ordine accendete l'incenso se siete persone che accendono gli incensi le luci voi avete le stanze anche la vostra magari l'incenso potete accendere per voi non lo sentiranno le altre persone ancora però avete le stanze anche delle altre persone certo se fate yoga per esempio avete bisogno di dire come deve essere l'inquadratura se fate quando faccio gli incontri in cui faccio esercizi per esempio io ho bisogno di dire alle persone quanto spazio devono avere perché se hanno l'armadio attaccato al corpo si allargano le braccia da una manata sull'armadio e si prendono anche le botte non è bello non è rilassante insomma quindi dovete dare delle indicazioni specifiche è chiaro però dovete anche dare delle indicazioni che se volete dovete dare delle indicazioni che diano alle persone un senso di come si possono sentire quando quando avranno la telecamera accesa quindi vi ricordate quel bentornate a casa mia dell'inizio io l'indicazione che do perché i miei incontri sono così è che la loro casa sia per loro accogliente ci sono delle persone che vivono in open space quindi io per esempio non chiedo il silenzio assoluto il silenzio assoluto lo garantisco io nella mia stanza quando c'è il momento di meditazione chiudo i loro microfoni e il silenzio arriva da me nelle loro stanzi ci saranno i loro rumori si vede ogni tanto passare qualche persona che vive nella stanza insieme con loro magari tipo Pantera Rosa che fa piano piano perché sono abituate che quello che fanno le persone che vengono alle mie meditazioni è chiedere rispetto per quel momento se non hanno una stanza che possono dedicare a se stesse in quel momento e quindi chiedono è questo che chiedo nel preparare la stanza e quindi poi le persone si sentono a loro agio nel far entrare le altre persone nelle loro case poi dare struttura questo dare struttura serve sempre serve anche negli incontri in presenza dare struttura serve a aiutare le persone a sentirsi a loro agio gli esseri umani hanno bisogno di sapere fin dove possono arrivare per sentirsi liberi di muoversi all'interno di quello spazio quindi diciamo come funzionano i nostri incontri dove possono andare come possono muoversi cosa possono fare e all'interno di quello spazio lasciamo che si possano muovere come vogliono vi spiego meglio create la cornice quindi dite come funzionerà l'incontro a che ora comincia qual è la struttura dell'incontro quindi dieci minuti ci salutiamo ci diciamo come stiamo poi vi presenterò come sarà la meditazione di questa serata faremo la meditazione che durerà una ventina di minuti e poi ci sarà la condivisione che sarà libera anche come si condivide è importante e tutte queste cose che vi sto dicendo servono anche proprio perché così le persone sanno come fare a partecipare e quindi partecipano più volentieri perché sono indirizzate verso il come posso fare a partecipare quali sono i limiti entro cui mi posso muovere dove posso parlare posso parlare all'inizio quando si chiacchiera e lì posso chiacchierare di qualsiasi cosa quando mi spieghi come sarà la meditazione ti posso fare le domande perché tu mi hai detto che ti posso fare le domande durante la meditazione avrò il microfono spento quindi non posso parlare dopo la meditazione c'è la fase di condivisione quindi posso condividere e questo è il modo di stimolare la partecipazione spiegare come si fa a partecipare e poi spiegare come si fa fisicamente a partecipare come si interviene normalmente in presenza le persone sanno come si fa a parlare alzano la mano l'hanno imparato a scuola si impara subito intervengono c'è il conduttore la conduttrice che gli dice aspetta un attimo che sta parlando quello su zoom o su qualsiasi altra piattaforma è un pochino più difficile capirlo quindi come si fa si alza la manina schiacendo il pulsante volete che intervengano soltanto sulla chat per esempio scrivendo possono parlare quando vogliono oppure date voi la parola tutto questo è siete voi a doverlo dire altra cosa è obbligatorio che intervengano anche questo è una cosa fondamentale il feedback la condivisione è obbligatorio o no siete voi a deciderlo però è importante che lo diciate nei miei incontri non è obbligatorio però questa è una scelta assolutamente personale se è obbligatorio io vi consiglio di dirlo subito di non fare la sorpresa alla fine e quindi cosa dici tu 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 avvisateli prima perché così e anche spiegate come fare per esempio vi chiederò di dire una parola vi chiederò di dire un colore su come vi sentite o qualsiasi cosa sapete come fare ci sono le tecniche per suggerire alle persone come condividere però avvisatele prima che saranno obbligate a farlo così si preparano anche quelle che sono più a disagio nel farlo perché avere la sorpresa alla fine è abbastanza brutto invece se lo sanno prima tutto tranquillo e no questo lo dico dopo se invece decidete di rendere la condivisione facoltativa un'altra differenza che c'è tra le incontri online e gli incontri in presenza è che è difficile capire quando una persona non ha voglia di intervenire perché negli incontri in presenza basta guardarsi e quindi se io una persona non vuole intervenire la guardo in faccia lei magari abbassa lo sguardo e quindi io capisco che non vuole intervenire su zoom capire che mi sta guardando non è possibile e quindi io ho adottato le scamotaggi di dire per me potete fare meno di condividerle però purtroppo me lo dovete dire e quindi io al certo punto vi chiamerò e vi dirò vuoi condividere qualcosa? te mi puoi dire no e a me basta così può sembrare una cosa un po' meccanica però vi assicuro che se l'ambiente è accogliente diventa accogliente anche il fatto che una persona possa dire no va bene così e passa in tranquillità però non dimenticatevi nessuno proprio per questo motivo che non si riesce a capire quando una persona vi sta guardando negli occhi quando c'è uno scambio oculare e proprio perché un'altra grossa differenza che c'è e una mancanza che c'è purtroppo e su questa non si può fare niente tra online e in presenza è tutto il non verbale tutta la parte di comunicazione del corporea e si vede manca in gran parte perché perché non si vede tutto il corpo quasi mai e perché comunque quello che si vede è molto piccolo quindi tutti i micro movimenti che passano normalmente purtroppo le micro espressioni purtroppo quelle si perdono quindi non riuscite con sicurezza a avere quell'interazione che fa sentire sicuramente le persone più accolte in presenza quindi se una persona non parla può essere che si senta trascurata se non parla e voi non interagite direttamente con lei può essere che si senta trascurata e magari invece aveva qualcosa da dire quindi assicuratevi di fare un ping su tutte le persone se avete paura come me di dimenticarvi qualcuno soprattutto nei gruppi numerosi perché zoom o altri anche altri sistemi per esempio cambiano l'ordine dei quadratini ogni tanto e quindi anche chi ha una memoria visiva a un certo punto si trova sfasato ed è un casino scrivetevi i nomi e vi mettete dei puntini di fianco alle persone che hanno parlato così alla fine del giro se qualcuno non ha il puntino chiedete vuoi dire qualcosa perché magari quella persona era solo timida aveva qualcosa da dire le mancava semplicemente quella spintina piccolina per dirlo e il gruppo si potrebbe perdere una condivisione di una persona del gruppo stesso e sarebbe veramente un peccato quello sarebbe veramente un peccato e quindi cercate di non dimenticarvi di nessuna persona quando preparate gli incontri questo me lo diceva sempre la mia insegnante preparate un piano A un piano B un piano C e poi il piano il gruppo non vuole fare quello che io ho pensato per il gruppo ha in mente qualcos'altro e io faccio quello che ha in mente il gruppo cercando di fare in modo che sia una sola cosa perché quello che voi avete come scopo è fare quello che vuole il gruppo una cosa perché è il gruppo che sa ricordate che siete in gruppi non siete in gruppi di formazione siete in gruppi di crescita personale quindi è il gruppo che sa non siete voi voi non siete maestre non siete maestre non siete insegnanti siete facilitatori facilitatrici quindi dovete capire tirare fuori quello che vuole fare il gruppo portarlo fuori e farlo andare avanti una cosa difficilissima è questa e succede nelle condivisioni condivisioni c'è qualcuno che vuole dire qualcosa non c'è mai nessuno che vuole dire qualcosa perché le persone hanno bisogno di tempo quindi quando chiedete una condivisione aspettate lo dico anche per me ogni volta che chiedo una condivisione c'è l'ansia e succede sempre perché qui c'è il momento in cui la persona che guida il gruppo vuole avere il suo bel tornaconto e qui appunto eh però bisogna aspettare le persone hanno bisogno di pensare di tirare di mettere in parole quello che hanno elaborato con il corpo con il lavoro che hanno fatto fino a quel momento lì date tempo se poi non viene fuori niente non viene fuori niente potete fare una battuta potete chiudere l'incontro però abbiate coraggio di gestire il silenzio di gestire i silenzi e abbiate fiducia nel gruppo perché qualcosa di solito viene sempre fuori bene avete domande? grazie a tutti 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 grazie a tutti